L'azienda agricola nasce nel 2000 dalla volontà di Davide Sada e dalla sua convinzione che i frutti della terra debbano essere la naturale espressione del luogo dove sono prodotti, nel rispetto delle sue peculiarità e caratteristiche territoriali. L'azienda possiede tre ettari, posti tra i 200 e 350 metri di altitudine, piantumati con 750 piante di ulivi di 40 anni fino a età secolare, da cui produce l'olio rubesto da cultivar Lazero, Pendolino e Leccino. Si presenta di colore verde bottiglia. Luogo felice dell'infanzia carducciana, il borgo medievale di Castagneto Carducci signoreggia dall'alto di una collina sulla costa degli Etruschi. Lontani, ma presenti nella mente, i ricordi del periodo trascorso tra Bulgari e Castagneto riprendono vita nei versi di Idillio Maremmano, in cui il poeta rievoca con nostalgia la bella terra che lo ospitò per dieci anni, ossia dal 1838 al 1848. Neppure la comunità lo dimenticò, visto che nel 1907, anno della sua morte, l'originario toponimo di Castagneto Marittimo fu cambiato in Carducci. Centro nel cuore della Maremma fu anticamente feudo della nobile famiglia della Gerardesca, che intorno all'anno 1000 lo dotò di un castello, fulcro dell'abitato circostante. Dal 1100 conobbe la dominazione pisana, passando poi nel 1406 a quella di Firenze, quando divenne vicariato dei conti della Gerardesca. Rimasto per secoli sotto la loro signoria senza che gli venisse riconosciuta l'autonomia, nel 1849 con l'intervento del Granduca Leopoldo II furono concesse agli abitanti le preselle, ossia lotti di terreno, oltre a richieste minori. Per quanto riguarda l'enogastronomia, lungo la strada del vino Costa degli Etruschi, nelle campagne tra le colline e il mare di Castagneto Carducci, si coltivano le uve Cabernet Sauvignon per la produzione di uno dei vini più pregiati e costosi d'Italia, il Bulgari Sassicaia Doc. Questo vino Super Tuscan viene messo a fermentare a contatto con la vinaccia di media per 15 giorni, dopodiché viene passato in barricca di rovere francese per l'invecchiamento di almeno un anno. Rede Litorale Livornese è invece il carciofo violetto della Val di Cornia, che si presenta nella tipica forma ovoidale, con le bratte interne giallo chiaro e le esterne di un viola via via sempre più scuro con l'approssimarsi della maturazione. Può essere mangiato crudo, leggermente astringente e amarognolo nel gusto per le parti esterne, dolce per l'interno, ma è particolarmente adatto per essere consumato sott'olio. Noto come gobbo livornese, il cardo della Val di Cornia si distingue per il suo naturale colore bianco brillante, che non necessita di fasciatura per ottenerne l'imbianchimento.